Sostenere la crescita in vista della manovra, le vostre proposte quali sono? Il governo ha tirato il freno a mano, invece noi abbiamo bisogno di incentivi per le imprese che assumono, per le imprese che muovano e il governo deve battere anche un colpo, non l'ha fatto sin qui, contro il carovita. Ma è una manovra che fa male all'Italia in generale, su questa parte avevano annunciato una rivoluzione fiscale ma come al solito è una rivoluzione che va ad avvantaggiare chi ha di più a svantaggio invece di chi ha di meno. Si tratta di capire quanto sia a rischio il lavoro in questo paese, hanno chiamato lavoro un decreto che aumenta la ricattabilità e la precarietà. Grazie